Buongiorno maestro stamattina sono in ritardo, sono in ritardo perché maestro ho sognato Gesù, mi ha detto che oggi è un altro giorno, ha fatto qualcosa stamattina maestro nel senso buono, ho scritto una bella musica, macchiato con franchino, metà metà, grazie, l'ho scritto con una penna verde, ho perso la penna, ho perso la penna, ho perso la penna, mi hanno dato una penna verde e l'ho scritto, la composizione la chiamo verde, è carina questa idea, allora domani troviamo una penna rossa facciamo rossa, poi la abbiamo bianca e facciamo la bandiera italiana, bisogna guardare il caso, il caso è la cosa bella, non bisogna fare una cosa apposta, sempre qua maestro perché il pubblico sta qua, quindi chiamiamo verde, allora vogliamo andare, visto che abbiamo poco tempo, la facciamo a 78 giri oppure normale, ma il fatto del tremore non ha visto più né se ci sono, tu hai avuto premori, va bene maestro, allora buon appetito, grazie prego grazie 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 Mettiamo qui il caffè, io mescolo e ancora una volta dobbiamo ringraziare i nostri amici che ci ascoltano, che sono pazienti e soprattutto interessati ad ascoltare ciò che le sorprese giornaliere possono creare, tipo anche comporre, perché è difficile comporre, non è facile. Maestro, questo è il suo caffè, salutiamo i nostri amici con il caffè, saluti a tutti e buona giornata. E buona giornata. Arrivederci a presto. A prestissimo. A prestissimo. Ciao amici. A prestissimo. A prestissimo. A prestissimo. Grazie per la visione!